Allora, parliamo della bagarre che è esplosa dopo gli ultimi video su la partita con la Cremonese, l'analisi a freddo, le pagelle, ma è una questione che parte già da prima, già dalla partita con la Lazio e da lì qualcuno ha iniziato a dissentire con il giudizio che ho su Singo per queste prime uscite, di senso che è aumentato poi dopo gli ultimi video. Allora, chiariamo subito la questione a Singo. Piccola parentesi, se volete continuare a supportarmi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate mi piace nel caso effettivamente vi piace il mio video, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su quello che pubblico e vi invito anche, nel caso non l'abbiate ancora fatto, a seguirmi su Twitter, dove da oggi riposto tutti i video che carico e ogni tanto dico la mia brevemente, in pochissime parole perché è così che funziona Twitter, su quello che vengo a sapere del mondo calcio e del mondo toro in particolare. E dal primo settembre, cioè da domani, ci sarà la live, la live dalle 18.30 alle 20 per commentare insieme il calciomercato, sarò ospite del canale Radio Granata, in live, non sarò dalle 18 alle 24, anche perché nell'asso di tempo tra le 6.30 alle 8 sarò in live qua, ma ci sarò per la partita, per commentare insieme la partita, Atalanta-Torino, insieme a Radio Granata e insieme a chi sarà presente, e poi, come vi ho già detto, nuovi video su tennis, nuovi video sullo sport, nuovi video sul calcio europeo, calcio italiano, oltre, ovviamente, a rimanere in ambito Granata. Singo, brevemente, perché la mia l'ho già un po' detta nelle pagelle di Cremonesi e Torino, che se non avete visto vi invito a recuperare, per capire il perché sia nata questa problematica. Io, singo, lo dico già dall'anno scorso, lo vedo come un giocatore che potrebbe fare di più, ok? Quindi questo non vuole essere necessariamente una critica pesante, anzi, perché leggendone in un certo modo, si può capire come, in realtà, io, da singo, se mi aspetto di più, ritengo che lo stesso singo sia anche un calciatore talentuoso. E' un giocatore che i numeri li ha, che è anomalo, perché ha una struttura fisica, è possente, pure gioca esterno. Era partito, io mi ricordo, quando ancora il campo non lo vedeva, quando giocava un po' di più in primavera, partiva come centrale. Ed è stato poi spostato sulla fascia, inizialmente da Longo, se non sbaglio, nelle ultime uscite di campionato 19-20. Poi, dalla stagione 20-21, ha iniziato a giocare un po' di più, fino a diventare un titolare fisso, sia con Giampaolo, sia e soprattutto con Nicola. E poi, dall'anno scorso, è arrivato Juric, che l'ha confermato titolare fisso, inamovibile. Nella stagione scorsa, Singo ha portato 4 gol e 3 assist. Pochi, pochi secondo chi segue il mondo Granata, pochi anche secondo me, pochi secondo Juric, che quest'anno, credo, sia su Vivoda, sia su Singo, investirà per cercare di renderli ancora più partecipativi in termini realizzativi. Al di là, però, dei dati, prendiamo il giocatore in sé. Prendiamo il giocatore decontestualizzandolo, ok? Ha talento, perché nel corso di queste due stagioni e mezzo ha fatto vedere di avere dei numeri, non da poco, per un giocatore che, come detto, da giovane partiva come centrale. Quindi, dimostra di avere il piede, no? La corsa ce l'ha, il fisico ce l'ha, quello che più di tutto in questo momento gli manca è il cervello. Senza cattiveria. Da un punto di vista meramente tattico. Non so, quindi dicendo che Singo sia stupido, ma che sia ancora immaturo tatticamente. Perché? Perché io spesso lo vedo arrivare sulla tre quarti o anche magari al limite dell'area di rigore e si blocca. Lo vedo bloccarsi. Lo vedo incerto. Lo vedo che tentenna sul pallone che ha davanti a sé senza sapere bene cosa fare. Ogni tanto, quindi, per questa fretta, non per questa fretta, per questa sua indecisione, per questo sottottennamento, sbaglia il cross. Altre volte prova una giocata come, che ne so, un tiro a giro da fermo, che finora non gli è venuto quasi mai. Altre volte, e questo più lontano dall'area di rigore avversaria, magari anche più vicino all'area di rigore nostra. Prova delle giocate che io ritengo superflue e che molto spesso si tramutano anche in errori. E questo dice Di Singo, almeno secondo me, che in un qualsiasi contesto passerebbe per un giocatore che sarebbe in questo momento almeno da catechizzare. È un giocatore che, ripeto, potrebbe fare di più, potrebbe incanalare la sua bravura e il suo talento con i piedi che ha effettivamente, in una maniera più oculata, per diventare, prima di tutto, nel contesto Granata, un giocatore più funzionale a Juric. E poi, in un eventuale suo contesto personale futuro, che, non so, vi auguro umanamente parlando, perché c'è l'eventualità che poi da qui a qualche anno, Singo, si trasferisca, in quel contesto lì, ecco, diventerebbe un giocatore più valido. Cioè, uno che magari in una grande squadra prova la giocata tre volte, quattro volte, alla quinta va in panchina, perché ha rotto le scatole, e il campo non lo vede più per tre settimane. È una cosa che purtroppo accade. È una cosa che accade con i giocatori che fanno vedere di avere un qualcosa, vengono subito acchiappati dalle grandi società, quindi, senza una grande capacità di scouting, perché, insomma, ti accaparri quello che ha già fatto vedere un qualcosa, è già conosciuto, no? Purtroppo funziona sempre più così. Ha preso il giovane di prospettiva. Quanto l'hai pagato? 50 milioni. Non è un giovane di prospettiva, ma immaginiamo una futura cessione di Singo a 30 milioni, una grande squadra lo prende, lo schiera subito il titolare, fa due, tre errori, due, tre cavolate di quel tipo di cui vi ho parlato prima, e finisce in panchina. E la sua carriera rischia di bruciarsi per quello. Quindi, quest'anno, sia Juric sia Singo devono lavorare insieme. Il primo, per catechizzarlo. Il secondo, per mettersi in testa, è che è arrivata l'ora di diventare un pochino più maturi tatticamente. Perché così, Singo potrebbe tranquillamente migliorare i numeri dell'anno scorso. Perché così, Singo non sarebbe più un elemento su cui lavorare anche nel corso della stagione. O, più in particolare, in ogni singola partita, essendo costretti magari a sostituirlo. E scusate la ripetizione del magari. Perché così, anche in termini economici, il suo valore potrebbe aumentare. E, in caso contrario, non dovesse succedere tutto il disegno che vi ho fatto adesso, io sarei anche per una cessione. Tanto, ripeto, il mondo di adesso è quello dove non si va a cercare il profilo concretamente bravo. Ma quello che ha fatto già un qualcosina, quello in una squadra, quello la cui valutazione è già salita sui 20 milioni, allora ha preso il giovane di prospettiva. Se dovesse esserci un interessamento più forte del Milan, dell'Inter o di un'altra squadra importante d'Italia o d'Europa e dovesse arrivare un'offerta valida, non dovesse Singo, lo vediamo noi, perché seguiamo il toro, non dovesse Singo durante quest'anno maturare veramente, io, almeno da tifoso, sarei per una successione, vista anche la condizione economica della società, che non è delle migliori. Perché ricorda tutti che la cessione di Bremer serviva, 50 milioni che arrivano, un buco in bilancio di 38 milioni a fine 2021, due prestiti, tre prestiti, anzi in totale 50 milioni, quindi insomma ci sono dei conti da saldare. Sarebbe cosa economicamente sostenibile e corretta monetizzare con gli elementi che o sono ormai non più trattenibili, oppure potrebbero rivelarsi un affare per la società. Fatemi sapere cosa ne pensate sulla questione, oggi pomeriggio sera uscirà un altro video per parlare del preto in Atalanta, visto che è un'altra partita importante, visto che la Roma ieri ha vinto e quindi dobbiamo già inseguire, cavolate a parte, e comunque per riassumere un minimo la situazione, a un giorno dalla fine del calciomercato e a un giorno dall'inizio di questa partita. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi anche su Twitter e andate a recuperarvi gli ultimi video che ho caricato. Io vi saluto, una buona giornata a tutti, ciao ragazzi.